Avere Vittorio Bodini qui a Taranto vuol dire avere un pezzo del nostro Salento, della nostra mediterranea età. Vedo Bodini come colui che ricalca il mito di Ulisse. Senza Musardo Talò, docente presso la SIS Puglia Università di Lecce, ha così esordito alla conferenza stampa di presentazione della mostra itinerante Vittorio Bodini, un uomo condannato al coraggio, che verrà inaugurata sabato 3 maggio alle ore 18.30 presso Palazzo Pantaleo. Prima che Bodini riuscisse a entrare intimamente in quello che era la cultura del Salento, perché mediterraneo per lui vuol dire soprattutto Salento, ha trascorso una vita da viandante fra tante culture dell'Europa, continua la professoressa Talò. Ispanista eccellente, a corto studioso, di quelle che erano le correnti artistiche letterarie europee, dagli studi sul barocco, poi ancora la sua esperienza, seppur non accesa, della corrente ermetica. Ma Bodini fondamentalmente non fu realista, non fu surrealista, non fu simbolista né ermetico, fu unicamente Bodini. Presente alla conferenza stampa anche Nini Elia, direttore del MUS, il Museo Storico di Lecce, che ospita la mostra permanente che collabora alla realizzazione della versione itinerante insieme al Centro Studi Vittorio Bodini e all'Associazione Forme di Terre. La città di Lecce ha voluto che nel suo museo storico ci fosse un omaggio eclatante a Vittorio Bodini nell'anno del centenario della sua nascita, che coincide con la candidatura di Lecce a Capitale della Cultura. Ed è con grande piacere che ho accolto l'invito del curatore della mostra, Antonio Minelli, dichiara Elia. Vedere questa mostra, che da Roma approda a Lecce, continua il suo percorso a Minervino e adesso verrà inaugurata sabato a Taranto, gli fa grande onore.